E' stato convocato per domani sera, giovedì 21 luglio, con inizio alle ore 16 il Consiglio Comunale d'Imperia. Dopo una prima parte sul riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio, si affronterà la ratifica della prima variazione di bilancio esercizio 2016. I consiglieri comunali saranno poi chiamati alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio. L'ordine del giorno prosegue con il documento unico di programmazione per il periodo 2017-2019 e con l'introduzione di una norma transitoria dell'articolato del vigente regolamento per l'organizzazione, il funzionamento e l'accesso ai servizi sociali. La Sise sarà poi chiamata a dibattere di due emozioni, la prima presentata dal consigliere Casano sul principio della bigenitorialità e l'istituzione di un registro comunale e la seconda del consigliere Marino per l'istituzione della commissione permanente accessibilità e diritti delle persone con disabilità. Infine due interrogazioni del gruppo Imperia Cambia, la prima sull'esito dei rilievi della delibera della Corte dei Conti 65 del 2015 e la seconda sulla situazione dell'approdo turistico di Imperia. La seduta del Consiglio Comunale si potrà seguire via streaming dal sito del Comune oppure su Imperia TV, canale 116 delle Digitale Terrestre.